...agli eventi nell'isola pedonale tra via Petroselli e piazza della Bocca della Verità, tra musica e arti, un modello mutuato dal Capodanno che l'amministrazione vorrebbe replicare anche il prossimo anno. Non sono mancate le revocazioni della Roma Antica, con 1500 figuranti che hanno sfilato tra i palimperiali e il Circo Massimo. Salvaguardare il...